Una rete di monitoraggio su SARS-CoV-2 per la sorveglianza delle mutazioni del virus, delle infezioni emergenti e la valutazione dell'efficacia e della durata della vaccinazione. Nasce il Consorzio Italiano per la Genotipizzazione e Fenotipizzazione di SARS-CoV-2, iniziativa presentata al Ministero della Salute e realizzata con il coordinamento e la supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità e il patrocinio della Società Italiana di Virologia. Il Consorzio sarà costituito da una rete di laboratori identificati sull'intero territorio nazionale che provvederà a fornire all'Istituto Superiore di Sanità le sequenze del genoma SARS-CoV-2 circolanti in Italia, monitorando l'evoluzione genetica del virus e la durata dell'immunità indotta dai vaccini. I dati ottenuti saranno inviati mediante report a flusso continuo e posti al vaglio di uno specifico comitato tecnico-scientifico a supporto dell'ISS e dell'AIFA e facente capo al Ministero della Salute. Proprio quando si intravede la luce in fondo al tunnel, infatti, ha spiegato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, si assiste all'emergenza di varianti del virus e se quella inglese e quella sud-africana non sembrano preoccupanti, altre lo sono. Quella che forse preoccupa di più, forse la variante brasiliana, è emersa a Manaus, quindi in Amazzonia, sulla quale esistono ancora dei dubbi circa la completa efficacia dei vaccini. Sarà comunque l'Istituto Superiore di Sanità a gestire il coordinamento di ogni attività circa studi e gestione del Covid, come ha spiegato il Presidente dell'AIFA, il virologo Giorgio Palù. Sorveglianza sul virus deve essere anche coordinata perché, come sapete, poi all'improvviso diventano tutti virologi, arrivano richieste da tutte le parti, quindi c'è bisogno di un coordinamento, come quella volta fu molto efficiente, con l'Istituto, con un suo comitato che registrò, quindi bisogna porsi i progetti, quali sono gli obiettivi, come si valutano, eccetera, e questo non può farlo che l'Istituto Superiore di Sanità. Parte attiva è fra i promotori del progetto il Vice Ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri. L'Italia non è rimasta indietro, semmai l'Italia avrebbe avuto e ha il bisogno, ed è per questo che è stato costituito questo tavolo, di fare rete, la professoressa l'ho appena detto, cioè fare rete, fare sistema, consente anche di utilizzare meglio i soldi, perché, diciamoci la verità, i soldi per la ricerca, per la sanità, sono sempre stati bassi, ma è pur vero che noi medici, noi ricercatori, pensiamo sempre che siano troppo bassi, anche se dovessero arrivarne di più, ne vogliamo sempre di più e credo che sia giusto così, però a volte fare rete, fare sistema, consente di utilizzare meglio anche quei pochi soldi che arrivano.